La vera, la conoscenza, tutti i quadri, io penso che la mostra sia veramente degna e in particolare arriva quel quadro da Servendori, ve lo ricordate, con quel vaso azzurro, con una bellissima composizione e chi l'ha vista, ripeto, come tutti gli altri, molto bene, però volevo iscrivervi al suo perché questa serata è dedicata anche alla sua esibizione, quindi viene dall'associazione di Madrid, AEDA si chiama l'associazione che cosa hai preparato? Un paesaggio? De dove? De Spagna. Buon lavoro, buon lavoro. Bravo. Buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro. Leggero monotone. 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 Grazie. 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 Grazie.